Ho preparato un bollo grigliato condito con spezie e frutta secca tostata. Quindi, do you think that questo è il piatto presentato bene? Sì, Chef. Do you guys pensate that it's fatto bene? Sì, Chef. Posso assaggiare? Sì, Chef. Mi dispiace, Chef. Però... I guess... Che ho fa' a me? Sì, Chef. Sì, Chef. Sì, Chef. Sì, Chef. Sì, Chef. Sì, Chef.